della dirigenza dell'Ambasciata d'Italia Tunisi, a fronte di illeciti disciplinari e di un comportamento conflittuale realizzati da alcuni dei collaboratori della sede. Non essendovi allo stato attuale un pregiudizio al buon funzionamento dell'Ambasciata connesso a tale conflittualità, la Farnesina si è finora stenuta dal valutare eventuali spostamenti del personale per sopravvenuta incompatibilità sotto il profilo funzionale e ambientale. Resta inteso che i diretti interessati, qualora ritengono che i loro diritti siano stati lesi, possono sempre far ricorso presso le competenti autorità giurisdizionali. Per quanto riguarda l'amministrazione della Farnesina, ogni sollecito e ogni nuova predisposizione di atti o di interpellanze verranno trattate con l'efficacia e l'efficienza degli uffici predisposti alla regolare vita delle nostre sedi all'estero, soprattutto nelle considerazioni fatte in premessa che questo Parlamento condivide. La ringrazio. Grazie, sottosegretario. Il deputato Romele ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Purtroppo sostanzialmente sono insoddisfatto, innanzitutto perché l'intervento del Governo è troppo specifico e relativo a fatti molto stretti, molto personali. In realtà, se questi possono aver avuto motivo di far partire tutta una denuncia più ampia, la tematica del mio intervento è di grande e di ulteriore dimensione e non finalizzata a toccare un aspetto stretto personale, ma inserito in un contesto molto più ampio della gestione complessiva della ambasciata. I temi che ho sollecitato per primi sono la gestione come tale dall'ambasciata alla logistica, la sicurezza e una serie di altre vicende con le grandi attese, le grandi attese anche per le legalizzazioni, le certificazioni documentali e quant'altro. Tutto questo visto purtroppo nel Governo un'assenza di risposta. Io anticipo che su questo seguirò attentamente. Mi auguro in collaborazione con il Ministero, perché io non sono qui adesso a fare una denuncia al Ministero, bensì a un organo del Ministero, che è un altro settore, un altro livello, quindi mi auguro in collaborazione con il Sottosegretario, in particolare con il Governo, di poter approfondire a fondo tutte le vicende che verranno avanti. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2305 dei deputati Bergamini e Brunetta concernenti iniziative di competenza per una campagna informativa sulla malattia invasiva del meningococco C in Toscana, anche al fine di evitare situazioni di allarme ingiustificato. Chiedo alla deputata Bergamini se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Saluto il signor Sottosegretario. Come lei anticipava, Presidente, la questione, l'oggetto di questa interpellanza indirizzata al Ministro della Salute è particolarmente importante perché sta causando gravi...